Questo non è l'iPad Air 2024, e no, se vuoi vedere un tipo di video con l'iPad Air 2024 devi assolutamente cambiare contenuto, mi dispiace e grazie per la microba ospitalità di questo video. Io sono un licensore tecnologico specializzato in ambito Apple e questo iPad Air 2021 con chip M1 è l'iPad che io possego da più di un anno e mezzo e l'iPad Air è dunque il device del quale mi sento ormai pronto per parlarvi di tutte le sue caratteristiche peculiari, perché ogni canale YouTube ha la sua peculiarità, la mia peculiarità è di parlarvi dei prodotti dei quali conosco e non prodotti che neanche so che esistano e parlarvi dunque a Vanver. Io parlo di cose serie e a proposito di cose serie preferisco partire da un unboxing per poi arrivare alle cose reali, perché? Perché strutturalmente questo iPad è fatto molto bene, ha uno schermo a 10.9 pollici di diagonale, vi lascio inoltre le dettagliate specifiche dell'utilizzo del display sia in orizzontale che in verticale. Il iPad poi può essere svegliato con un doppio tap e ha il control center, ovvero il centro di controllo, dalla quale possiamo regolare nello meno in stadio uno schermo IPS fino a 600 nits. Abbiamo in mente anche differenti tipologie di utilizzo, per esempio con la dark mode e il light shift o l'appena attivato true tone. Io le disabilito entrambi perché non mi piacciono e soprattutto ritengo consumino troppa batteria. Anche la dark mode può essere switchata con la light mode e oltretutto questo iPad ha un orario, presente e un po' celato dalle montagne, come iPadOS ci insegna. Dato che ve l'ho fatta dire, questa è l'Apple Pencil di seconda generazione, bello vero valore aggiunto per questo iPad Air. Dato che l'iPad Air non è un Mac, ma per differenziarsi da quest'ultimo, ha bisogno di vari accessori come Magic Keyboard, io ho Logic, foglio touch e questa magnifica Apple Pencil. Passiamo ora alle differenze strutture dell'iPad. Abbiamo una porta USB-C che abbandona lo stile lightning, già da qualche modello di iPad Air, e abbiamo quattro casse di altoparlanti, che direte voi, ma sono quelle dell'iPad Pro. Sì, ma intanto l'iPad Pro non ha il Touch ID, ha il Face ID. Mentre, qua per trucare abbiamo un Touch ID. Oltretutto possiamo notare che le quattro casse, vi ripeto, quattro casse, sono quattro ai lati, ed è vero due per lato, ma non sono casse, ovviamente, qualitativamente come l'iPad Pro. Infatti sono soltanto stereo, basta, non hanno altre qualità. E rispetto invece a un iPad di altre generazioni, dobbiamo capire cosa ci c'è all'interno della confezione di iPad, tramite questa piccola videatura, perché è importante capirlo. Ed è vero, non mi è mai importato niente nella confezione, a parte i cavi, che ripeto, è un unboxing farlocco, perché l'ho già unboxato un anno e mezzo fa questo iPad. È importante per notare quanto gli sticker, i manuali, che molti ritengono, ed è per questo che faccio vedere questa parte del video, qualcosa di superfluo, in realtà sono utili, perché tutti quelli che snobbano questo tipo di materiali di utilizzo, è in realtà molto importante per chi parviene, per esempio, in un Samsung Galaxy Tab S8, e dunque si affaccia per la prima volta al mondo di iPad. L'iPad ha bisogno anche degli sticker, è vero, ma passiamo ad un mondo reale e concreto. L'iPad è quel device che sempre sarà a fianco a te, ed è secondo me l'iPad Air di quinta generazione, l'affare che potrebbe essere avuto molto specialmente in questi giorni su Amazon, dove l'iPad scende anche 499€, nuovo, link in descrizione, al mio canale di sconti, e offerte, il club della mela, su WhatsApp mi raccomando. L'iPad è sempre responsivo e pratico, possiamo utilizzare applicazioni molto pesanti come MInstaller, di Motion, VFX, oppure possiamo optare per applicazioni più leggere e di collaborazione, come Microsoft Teams. Anche app come Dovinci Resolve sono molto pesanti, ma riescono a girare su questo iPad. Applicazioni di iPad come Notion la fanno nella padrona. L'iPad è sempre responsivo in tutti i conti delle schermate, anche nella schermata ovviamente di App Library. L'App Library, per chi non lo sapesse, è l'ultima schermata accellata e nascosta dell'iPad, dove possiamo notare tutte quante le differenze rispetto all'altra app. Possiamo ottenere premuto, ad esempio, e scegliere delle funzioni peculiari, per esempio, scattarando foto, nelle applicazioni note. Et voilà, ci sarà aperta la fotocamera di iPad. Non mi credete? Guardate qua, è fra lì la fotocamera. Possiamo switchare poi dall'1x al 2x, che non c'è un crop dell'immagine, che non vede per zoom, e poi assieme devo avere fino al 5 per in foto, e altre per in video. Inutile parlare di fotocamera su iPad, dicono molti? Può darsi che sia vero, ma le mie differenti azioni, e nonché un motivo perché dovresti iscriverti al mio canale YouTube, è perché le fotocamera a qualcuno servono, e se ho aiutato anche solo qualcuno a capire queste applicazioni, le fotocamera come si utilizzano, il mio lavoro sarà già a mezza strada. Poi ovviamente iPad Air di quinta generazione, potete arrivare l'Apple Pencil in carica, e soprattutto in magnetico attacco, vedete qua la leccitura. E niente, questo è ovviamente l'iPad Air di quinta generazione, vi invito ad iscrivervi, e vi parlo per un attimo del chip M1, giusto per outro di questo video. Questo iPad monta il chip M1, è un chip rivoluzionario di Apple, uscito dal M20, prima su Mac e poi portato su iPad Pro e poi iPad Air, ed è il chip che secondo me Apple dovrebbe implementare anche sugli iPhone, permesso che lo scaldare degli iPhone, specialmente gli ultimi 15, potrebbe dare un po' noia e fastidio. A mio avviso l'iPad Air di quinta generazione, sempre in sconto sul mio club della mera WhatsApp canale, tutti i link in descrizione, potrebbe essere valido a partanti studenti, anche di universitari, non per forza di ciali e basta, e in quell'iPad vi è indispensabile, anche lavorare come architettura, per là magari le consiglio stesso un iPad Pro, e quindi l'iPad Air si, è sempre da quell'iPad in mezzo, un po' sempre più vicino all'iPad Pro. Saluti da FederArt.